Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato l'innovazione energetica annunciata dalla Betavolt New Energy Technology, un'azienda cinese con sede a Pechino, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate, che ha presentato a gennaio 2024 la BV100, una mini batteria nucleare che potrebbe rappresentare una svolta epocale nel settore dell'alimentazione elettrica. Una cella nucleare miniaturizzata capace di alimentare dispositivi per mezzo secolo senza bisogno di ricarica. Questa batteria è capace di rivoluzionare l'intero mondo dei dispositivi elettrici? A quanto pare di sì e la fonte proviene dal nucleare. Vediamo nel dettaglio cosa rende la BV100 così straordinaria. La BV100 è costituita da uno strato di nickel 63 radioattivo posizionato tra due strati di un semiconduttore di diamante monocristallino, spessi solo 10 micron, producendo energia elettrica, in modo sicuro e sostenibile, di 100 micro watt a 3 volt, ed in uno spazio incredibilmente ridotto, 15 per 15 per 5 millimetri, dimensioni di una piccola moneta, per una durata eccezionale fino a 50 anni. Il nickel 63 radioattivo è un isotopo sintetico del nickel, non si trova in natura, almeno non in quantità rilevabili, e decade in 100 anni in rame per emissione di raggi beta. Un aspetto rivoluzionario di questa tecnologia è la sua capacità di fornire un'energia stabile nel tempo, indipendentemente dalle condizioni operative o dall'usura, a differenza delle tradizionali batterie a celle elettrochimiche. La BV100 può resistere a temperature estreme, con un range operativo che va da meno 60 a 120 gradi Celsius. Con una capacità di stoccaggio di 3300 megawattora, questa batteria vanta una densità energetica oltre 10 volte superiore rispetto alle batterie tradizionali al litio. La BV100 di Betavolt non è una semplice batteria, ma un prodotto di ingegneria avanzata che ridefinisce completamente il concetto di alimentazione elettrica. Essa potrebbe rivoluzionare il modo in cui concepiamo l'alimentazione dei nostri dispositivi. Questa tecnologia all'avanguardia rappresenta un cambiamento epocale, con applicazioni potenziali in una varietà di settori, tra cui il campo medico, aerospaziale e dell'elettronica di consumo. Con una durata di 50 anni senza richiedere ricariche o manutenzione, Betavolt immagina, per queste batterie, scenari in cui dispositivi come telefoni cellulari, robot o auto elettriche potrebbero funzionare senza richiedere alcuna ricarica per decenni. L'enorme aumento della durata di vita di questa batteria è dovuto al fatto che non ha cicli di carica ma al decadimento dell'isotopo nickel 63. Essendo modulari, le unità possono essere combinate in modo da creare batterie da tensioni e potenze diverse. Questa prospettiva apre nuove frontiere in settori chiave, offrendo soluzioni a lungo termine per le sfide energetiche attuali. Una delle caratteristiche più sorprendenti della BV100 è la sua sicurezza. Il materiale radioattivo è accuratamente sigillato in una custodia protettiva, che garantisce che la batteria non emetta radiazioni dannose. Infatti l'azienda prevede l'impiego di questa tecnologia anche per alimentare dispositivi medici critici, come pacemaker e cuori artificiali, una caratteristica rassicurante che distingue la BV100 dalle tradizionali batterie termonucleari, finora riservate all'ingegneria aerospaziale. La tecnologia usata per la batteria nucleare di Betavolt non è comunque una grandissima novità. Sistemi analoghi sono stati sviluppati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica negli anni 60. Ma ci sono delle differenze. Le vecchie batterie nucleari erano grandi, pericolose, calde e costose. Alcune impiegavano persino il plutonio come fonte di energia radioattiva. Le sonde Voyager, lanciate nel 1977, rappresentano un esempio di questa tecnologia nucleare, poiché sono alimentate da batterie nucleari sviluppate durante la guerra fredda e sono ancora operative, solcando la periferia del sistema solare. Mentre la BV100 sembrerebbe essere sicura e non perdere radiazioni anche se sottoposta a colpi di arma da fuoco o a forature. Rispetto alle batterie a litio, Betavolt offre anche una soluzione che riduce i rischi di surriscaldamento e di esplosione. La conversione del nickel 63 in rame non radioattivo comporta che alla fine del ciclo di vita della batteria nucleare non è richiesto lo smaltimento come rifiuto radioattivo. Betavolt assicura che i processi di riciclo delle sue batterie non sono particolarmente costosi, a differenza di quanto avviene con quelle attualmente esistenti. Attualmente in fase di produzione pilota, la BV100 di Betavolt è destinata a diventare ancora più potente con una versione da 1 Watt programmata per il 2025. La Betavolt sta studiando anche batterie basate sullo stronzio 90, il Promezio 147 ed il Deuterio, per batterie di maggiore potenza e durate variabili tra i 2 e i 30 anni. L'obiettivo dell'azienda è integrare questa rivoluzionaria tecnologia in una varietà di applicazioni, trasformando la necessità di ricaricare i dispositivi in una pratica obsoleta. Grazie ad una densità energetica 10 volte superiore a quella delle batterie al litio, e senza i problemi legati al ciclo di ricarica, la batteria BV100 potrebbe essere la soluzione ideale per un'ampia gamma di usi. Non si sa con sicurezza se tale innovazione possa funzionare su larga scala e tutto da vedere. Tuttavia, la BV100 rappresenta sicuramente un passo significativo verso un futuro in cui le limitazioni delle batterie tradizionali diventeranno un ricordo del passato. La Betavolt sta aprendo la strada a una nuova era nell'ambito dell'alimentazione elettrica, puntando a superare gli ostacoli del presente e a plasmare il futuro dell'energia. L'avvento di queste tecnologie introduce infatti una nuova fase di innovazione ed autonomia nell'ambito delle batterie nucleari, aprendo scenari futuri in cui l'energia potrebbe essere un bene virtualmente inesauribile. Basta pensare agli enormi depositi di scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale. Grazie.